Poi l'intelligenza artificiale e medicina sono molti gli interrogativi e i timori che l'intelligenza artificiale sostituisca il medico. Ma è veramente così? E in quali campi della medicina l'intelligenza artificiale è oggi impiegata? In un convegno all'inizio di settembre si è parlato proprio di questo. E di questo parliamo con il protagonista di questo convegno, che è il professore Stefano Del Prato. Buongiorno, professore, presidente Fondazione Menerini e professore emerito Università di Pisa per endocrinologia. Allora, professore, l'essere umano è al centro che con le proprie risorse, abbiamo visto, riesce a plasmare la propria malattia. Noi invece parliamo di intelligenza artificiale e esprimiamo il timore che questa possa avvocare a sé in medicina tutte le prerogative del medico. Togliendo anche umanità ad una visita o anche un accudimento in chirurgia. Ma questo è possibile? È quello che sta succedendo? Questi timori sono comprensibili. Questi timori si è parlato molto in questo recente convegno che Fondazione Menerini ha organizzato in collaborazione con Isola Gemelli, dove si sono stati affrontati tutti i vari problemi di intelligenza artificiale in medicina. Ora sì, questo è un timore, è vero, esiste, però è questione di governare questo timore. L'intelligenza artificiale in medicina deve diventare uno strumento che affianca il medico, che migliora le sue capacità diagnostiche, prescrittive e quindi aiutarlo ad affrontare i problemi, soprattutto quelli complessi, liberandolo da quelle che sono invece delle abitudini o quelle che sono delle necessità di tipo rutinario. Lei è uno dei massimi esperti mondiali di diabete. In che modo l'intelligenza artificiale può essere utile per il diabete? L'intelligenza artificiale può essere estremamente utile per le persone che vivono con diabete, così come per tutte le persone che hanno problemi di tipo medico. L'intelligenza artificiale può essere incredibilmente sorprendente anche in questo campo. Ci sono dei dati recentemente pubblicati che dimostrano che il diabete si potrebbe identificare semplicemente da una radiografia del torace. Quindi l'apertura dell'intelligenza artificiale è tale da migliorare la capacità di diagnosticare precocemente il diabete, di aiutare la persona con diabete a gestire la propria malattia, migliorando quelle che sono le indicazioni di personali del trattamento, migliorando quelle che sono i risultati e nel nostro tempo riducendo anche quelli che sono gli effetti collettrali di eventuali farmaci. Anche in cardiologia ci sono delle prospettive interessanti per l'intelligenza artificiale? L'intelligenza artificiale impatta su tutte le branche della medicina ovviamente. Abbiamo parlato prima del diabete, la cardiologia sicuramente è là dove ci sono delle grandi aspettative. Per cose anche relativamente semplici, noi abbiamo uno strumento diagnostico, l'elettrocardiogramma utilizzato da sempre. L'intelligenza artificiale è in grado di guardare all'interno di questo elettrocardiogramma identificando tutta una serie di segnali che diventano ancora più precisi e più specifici per l'identificazione dei soggetti a rischio. Ma non è solo l'elettrocardiogramma, pensi a tutta la diagnostica per immagini, l'ecocardiografia, la TAC, la risonanza magnetica. Un nuovo modo di guardare con un occhio diverso e con un occhio che va ad aiutare l'occhio esperto del cardiologo che interviene sulla persona. E anche elaborare un grande volume di dati in pochissimi secondi. L'intelligenza artificiale è fondamentale in questo senso, ed è per questo che si specifica per le diverse branche, ma può diventare anche un sistema di gestione unificante, che è una cosa importante in quella che è un approccio comprensivo e omnicoprensivo della persona integrando tutti i dati, ma non solo quelli medici, anche quelli sociali, delle abitudini di vita. E quindi identificando quelle che sono proprio delle caratterizzazioni individuali di ciascuno di noi. Senta, professore, siamo diciamo in chiusura, però io una domanda gliela devo fare. L'incubo di ogni paziente è quello di pensare di trovarsi in una sala operatoria da solo, steso sul lettino operatorio, senza un medico intorno, solo circondato da robot. Ora, questa è una cosa che può accadere? Ma è una cosa che sostanzialmente già accade, la robotizzazione della chirurgia è già un'attuale realtà. Questo non vuol dire che c'è il robot e non c'è il medico. Il medico governa quel robot, anche se il paziente chiaramente vede soltanto questa... Anzi, non lo vede perché essendo un paziente chirurgico probabilmente è anestralizzato. Speriamo, certo, sì. Ma quello che è importante è l'integrazione, ancora una volta, dell'intelligenza artificiale per la gestione della tecnologia avanzata rappresentata dalla robotizzazione e l'esperienza, la guida, la scelta critica e clinica del chirurgo che opera e interviene. Quindi è questo il ruolo del medico, diciamo? Il ruolo del medico rimane sempre centrale. Il medico è un medico che diventerà sempre migliore utilizzando gli strumenti che la tecnologia gli mette a disposizione. La tecnologia, l'intelligenza artificiale, deve diventare uno strumento nelle mani del medico e non viceversa. È una collaborazione, non è una presa di una sostituzione della figura del medico. Grazie, professore. Grazie.